Buongiorno, buongiorno. Siamo ben risvegliati con di prima mattina l'appuntamento classico di Super G dedicato alla rassegna stampa. Faremo un viaggio nell'informazione cartagia con i giornali abruzzesi presenti oggi in edicola. Oggi, giovedì 23 di febbraio, guardando quelle che sono le ricorrenze storiche, spicca anche un aspetto molto curioso e particolare. Proprio in questa data, nel 1892, l'ingegnere tedesco Rudolf Diesel ottenne il brevetto per il motore che porta il suo stesso nome. Sicuramente una rivoluzione sotto questo punto di vista copernicano. Infatti, l'ingegnere tedesco sperimentò e ottenne il brevetto per poter sostituire al vapore un mezzo fluido da utilizzare nei motori termici. Anche se il brevetto fu ottenuto nel 1892, il primo motore vero e proprio fu prodotto invece nel 1897, quando poi la strumentazione era divenuta efficace. Buongiorno, vi arriva in regia anche da Cristian De Luca. Iniziamo il nostro viaggio di giornata dell'informazione andando a vedere le prime pagine del centro, delle quattro edizioni provinciali del quotidiano abruzzesi, che hanno una caratteristica particolare. Oggi il giorno della sentenza di primo grado per Rigopiano, ovviamente questo titolo forte trova spazio in tutte e quattro le edizioni. Partiamo da quella pescarese, appunto Rigopiano, l'ora della verità. Strage nel Resort, oggi a Pescara. La sentenza per i 30 imputati rischiano un totale di 151 anni, si legge nel catenaccio. I parenti dei 29 morti attendono giustizia da sei anni, ma nessuno ci restituirà i nostri e cari. Qui la fotonotizia va a cristallizzare tre momenti. La strage del Resort, quello che è il dibattimento in aula con la pubblica accusa e anche il corteo dei familiari con le vittime. Sempre per quanto riguarda la prima pagina dell'edizione pescarese del centro, il taglio alto, soldi a chi a vivere nei comuni abruzzesi che perdono i residenti. L'elenco dei piccoli centri e provvedimenti da parte della regione. Taglio alto, sempre invece con il lavoro, Sevel va oltre la crisi. Un premio ai lavoratori di quasi 2.000 euro. Atessa la fabbrica del furgone Ducato. Sempre per quanto riguarda la prima pagina pescarese del centro, di spalla, intervista al rettore dell'Università d'Annunzio Caputi. L'Ateneo è in crescita con assunzioni e investimenti. Sempre a Pescara, la viabilità spunta il filobus in Viale Marconi. Il sindaco Masci è il futuro. Con la cronaca, spara e ferisce l'amico durante un gioco. Questa notizia che arriva da Guardia Grele, 17enne, colpisce alla coscia un 13enne con un fucile ad aria compressa. In taglio basso, invece, con la cronaca, tangenti e favori. Tutti assolti. Pescara, processo sul funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Cadono le accuse di corruzione contro commercialisti e legale. Poi il titolo civetta. Sanità Pescara. Liste d'attesa. La ASL. Turni più lunghi per il personale. Dall'edizione pescarese a quella di Teramo. Titolo forte e identico, ovviamente legato alla sentenza di Rigopiano, attesa per la giornata di oggi, così come il taglio alto, sia per quanto riguarda l'elenco dei piccoli centri e i contributi che arrivano dalla regione per evitare lo spopolamento, così come le questioni. Premio di produzione alla Sevele. Di spalla, invece, lutto a Teramo. In centinaia danno l'addio a Manuele. Morto a 20 anni. Enes e Nicolò. I funerali delle giovane. E poi Roseto. Addio a Ginevro. Ex dirigente del PC. Muore a due mesi dall'incidente. Incidente che aveva visto l'uomo investito sulla Statale 150. La procura, come da prassi, ha disposto l'autopsia. Acqua con la giudiziaria in aula, le accuse degli esperti. Processo a Teramo. I consulenti tecnici dicono tante commistioni sotto al Gran Sasso. Sempre per la pagina teramana, verso le elezioni appunto della città capoluogo, centrodestra, slitta il candidato rinviato. Il tavolo regionale titola il centro. Marsiglio sonda l'ipotesi. Tancredi. Poi con il calcio di Serie D nel titolo Civetta, Coppa Italia Pineto. vola in semifinale con un poker battuta nettamente la puteolana. Andiamo a vedere invece la prima pagina dell'edizione di Chieti del centro. Ovviamente titolo forte e fotonotizia sono le stesse. Di spalle anche qui l'intervista a Caputi. L'Università d'Annunzio con l'Ateneo in crescita. E poi Vasto. Uccise i genitori, il figlio non può stare in carcere e delitto nel 2012. Anche qui titolo in taglio basso di cronaca con la vicenda di Guardia Grele. Spara e ferisce l'amico durante un gioco. In taglio basso invece sbarco dei migranti. Tutto pronto. Domani nel porto di Ortona. Attesi in 38. Ci sono due neonati. Vertice ieri. Con il prefetto La Cioppa. E poi inchiesta a Chieti. Investimento in Bitcoin. La finanza svela la truffa. Chiudiamo la panoramica delle prime pagine del centro. Andando a vedere quella aquilana. Ovviamente anche qui rigopiano l'ora della verità. Il titolo forte. Di spalla invece l'Aquila rilancia super bonus. Il cratere resti fuori dallo stop. In consiglio comunale. Qui la foto del sindaco Pierluigi Biondi. Sul Mona. Baby Vandali in azione. Danni a Palazzo Sardi. E poi la giudiziaria cene a spese della regione condannata. L'Aquila sentenza della Corte dei Conti. L'ex dirigente appunto regionale deve restituire 12.000 euro. E poi autostrade a 24 e a 25 presto i nuovi lavori. La sicurezza dei viadotti. L'annuncio di Marsilio dopo l'incontro avvenuto ieri a Roma con il commissario. Poi Avezzano disinnesco della bomba. Assistenza agli over 80. Prosegue ovviamente tutta la fase preparatoria per disinnescare la grossa bomba scoperta nel centro cittadino durante dei lavori che verrà rimossa e fatta brillare domenica, prossima domenica 26 di febbraio. Lasciamo il centro. Andiamo invece a vedere il messaggero. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano romano. Pagina nazionale. Titolo forte, concorsi, lavoro in 180 giorni. L'intervista a Zangrillo della pubblica amministrazione. Il ministro, così vogliamo tagliare i tempi morti delle procedure. Consiglio dei ministri, incentivi stabili alle imprese. Basta aiuti a pioggia. Prima casa, benefici fino ad ottobre. In taglio alto invece. Parole, luoghi, immagini, sordi, mito e mortale. Vent'anni fa l'addio all'attore comico romano. E poi l'intervista. Zoff para ancora. Io un bravo operaio. Gli artisti erano Maradona e Platini. Di spalla invece la Casa Green, l'editoriale, il superbonus e le modifiche che sono utili al paese. Con questo editoriale di Angelo Di Mattia. Con sempre in prima pagina gelo tra premier e Berlusconi sulle armi a Zeleschi. La lega frena. Asse, meloni, tagliani, noi con Kiev. E gli hacker filorussi sfidano l'Italia. Il sindaco di Napoli invece Manfredi attacca dall'autonomia. Danni ai comuni. Poi la fotonotizia è dedicata a un tema che in questo momento sta tenendo decisamente banco. Laghi e fiumi in secca. Le centrali elettriche a rischio stop. Siccità e anche allarme energetico. Con la giudiziaria Pamela Osegale non ottiene sconti. Resta l'ergastolo. Perugia anche in appello riconosciuto lo stupro. Sollievo in aula. La famiglia dice ci sono altri mostri. E poi anche in prima pagina c'è il richiamo al processo per Ricopiano. Oggi la sentenza, l'attesa dei familiari, ricordiamo, al Tribunale di Pescara. Andiamo a sfogliare invece le pagine interne del messaggero. Con il mondo produttivo. Imprese e gli incentivi diventano stabili. Basta aiuti a pioggia. Oggi al Consiglio dei Ministri la legge delega per la riforma. Le agevolazioni dovranno essere pluriennali. Si legge qui ovviamente ci sono le linee guida di questa infografica sugli interventi verificabili per quanto riguarda le imprese con il Ministro Urso. Poi Superbonus, spazio alla cessione dei crediti. Tavolo MEF aziende sia all'uso degli F24. Nuovo pressing sulle banche. Si legge nel sommario hanno ancora margini fiscali. Li usino. Un periodo transitorio per lo sconto in fattura. Quindi si cerca di trovare una soluzione per disincagliare i cosiddetti crediti presenti nei cassetti fiscali delle aziende. Questo è il titolo di prima pagina. Intervista al Ministro Paolo Zangrillo. Concorsi via la riforma assunzione in 180 giorni. Il Ministro della Pubblica e Amministrazione si legge nel catenaccio. Dice taglieremo i tempi morti delle procedure. Con i sindacati sarò franco margini di bilancio stretti per i rinnovi contrattuali. Qui ci sono i numeri di questa operazione. Non sempre è vero che in Italia il pubblico paga meno del privato, dice ancora il Ministro. La vera sfida è cambiare la cultura dei dirigenti per valorizzare il merito. L'obiettivo di assumere 150.000 persone quest'anno è ambizioso, ma lo centreremo, dice ancora. Proseguiamo ancora sempre con il messaggero con la pagina nazionale. Lasse Meloni italiani, indipendenza per Kiev. Armi frenata della Lega. Il Governo ribadisce la linea sul conflitto. Basta equivoci sulla difesa dell'Ucraina. Resta il gelo con il Cavaliere. Nessuna telefonata spunta l'ipotesi di un mini provvedimento. L'Italia valuta, si legge nel sommario, una fornitura di materiali in grado di fronteggiare attacchi nucleari e batteriologici. E poi c'è la ritorsione, la cybersicurezza nel mirino. Infatti c'è la ritorsione degli hacker, l'ombra dei servizi russi. Rappresaglia dopo il viaggio di Meloni sotto attacco ai siti di ministeri e aziende. L'abbasciatore Razov dando le armi a Kiev. Anche Roma entra nel conflitto. E poi, taglio basso, Putin minaccia la Moldavia. Sovranità non riconosciuta, intesa con l'inviato di Iczi. Quindi, questa è un'altra vicenda. Proseguiamo ancora, sempre con la pagina nazionale, il fronte della giustizia. Cospito la linea Nordio. Non decidono i PM. Quali atti sono secretati? Guarda i sigili, dice la qualifica di segretezza, spetta l'autorità che scrive il documento. Velleitario è un metafisico che un avviso di garanzia possa portare a dimissione il dibattito sulla vicenda. Ovviamente, di cospito di quello che è successo nelle scorse settimane in Parlamento. Poi, taglio basso, Bonaccini, Sline, divisi alla meta. Niente ticket dopo le primarie del PD. Il governatore dice, se vinco, le chiederò di darmi una mano. Ma la diputata chiude. Basta con il partito patriarcale. Proseguiamo ancora, sempre con la pagina nazionale del messaggero. Autonomia dannosa. Penalizza i comuni. Il intervento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che dice una riflessione doverosa no al centralismo regionale. Effetti deleteri, seguità sociale, equilibri nazionali. Non è il sud contro il nord. E poi, in taglio basso, Sanremo, la Gcom, Bacchetta, la RAI, istruttoria su Ferragni e Rosa Chemical. Continua, ovviamente, a distanza di tempo, le polemiche, anche le prese di posizione. Proseguiamo ancora, la guerra e l'illegalità, con il report della finanza. L'allarme di Zafarana, persi 90 miliardi per colpa dell'evasione. Il comandante generale della Guardia dei Finanze, in audizione alla Camera, scoperte frodi per 3,7 miliardi legate al bonus. Ora, le indagini anche nel metaverso. Questa attesa che arriva da Milano su un'inchiesta di recupero finanziario decisamente interessante, che terrà banco sicuramente nelle prossime settimane. Proseguiamo ancora, andiamo invece a vedere cosa propone il messaggero relativamente alle pagine abruzzesi. Andiamo a sfogliare velocemente, per arrivare proprio all'edizione abruzzese del quotidiano romano, questo giovedì 23 di febbraio. Anche qui, ovviamente, il titolo forte riguarda Rigopiano, il giorno del giudizio. Oggi la sentenza a sei anni dalla valanga che distrusse l'hotel, causando 29 vittime. I miei familiari dicono, avremo giustizia per i 25 imputati, sono stati chiesti 151 anni di carcere. In taglio alto, invece, Teramo Totosindaco, nel centro-destra, slitta la scelta di Quaresimale 1, l'assessore regionale tra i nomi papabili. Dopo terremoto, l'Aquila battaglia in consiglio sulla richiesta di spese alle vittime. Sempre in taglio alto, con il calcio di Serie C, Pescara, mister Colombo, torna al vecchio modulo. Tornando alla vicenda di Rigopiano, c'è un richiamo in prima pagina con il fratello Di D'Angelo. Lo sogno ogni notte, bisogna indagare ancora gli allarmi inascoltati. La fotonotizia, Pescara, la strada senza pace, il filubus in Viale Marconi, testa sorpresa della tua. Con la cronaca, sempre in prima pagina del messaggero, truffa dei bitcoin, Chietino perde migliaia di euro. Convinto da sedicenti operatori finanziari, ha versato denaro vero su un conto corrente. Ortona, domani l'arrivo di 38 migranti, prefetto al lavoro. Taglio basso invece a Vezzano, la bomba impone lo stop alle messe. Lo vedete, hanno letto anche sul centro, su quelle che sono tutte le attività preparatorie per rimuovere la bomba, l'ordigno bellico e poi farlo brillare. Di spalla invece l'editoriale Bruno, la fiabba dell'orso tradita per i bambini ucraini, rifugiati. Questa storia che racconta il messaggero. Andiamo a sfogliare all'interno le pagine del messaggero. Classi pollaio, autonomia con Italia in arrivo, scompariranno 46 istituti. La cura dimagrante per la scuola. La soglia minima di 900 studenti a preoccupare maggiormente i sindacati. Secondo Pino Lafratta della Fielle CGL, la logica del risparmio causerà disservizi. Calo demografico e orografia, si legge nel sommario, contribuiranno ad accelerare la desertificazione dell'Abruzzo interno. E poi già deliberati i primi accorpamenti, la regione invitata ad alzare la voce nel confronto con lo Stato. Il taglio basso invece, tra Bocchi, Noa, la Bolkestani e l'Abruzzo, sogna anche il riconoscimento dell'UNESCO. Parlamentari, operatori, ieri alla Camera, il giurista dei Carolis, strutture storiche possibile, la deroga a questo aspetto che emerge. Proseguiamo con l'approfondimento, ovviamente nelle pagine interne del processo per la strage di Rigopiano, l'attesa della sentenza, i parenti abbiamo fiducia, lo scaricabarile difensivo dimostra che ci sono delle colpe. La lunga udienza conclusiva inizierà alle 9.30. La lettura del verdetto prevista alle ore 17. Gianluca Tanda riassume il sentimento comune, rappresentante questo delle vittime e dei familiari, ma mai più è il nostro slogan. E poi le parti, qui ovviamente c'è anche una galleria fotografica con vari momenti per quanto riguarda sia il processo e sia una delle manifestazioni dei familiari proprio sul luogo della tragedia. Per 25 dei 29 imputati chieste condanni per complessivi 151 anni di carcere, il giudice Sarandrea medita la decisione. E poi la compostezza di quanti piangono i loro cari non è venuta meno neanche durante le arringhe. Poi le richieste, ovviamente per quanto riguarda le richieste di condanna verso il prefetto, il sindaco, il gestore, i province e i funzionali. Come abbiamo detto, sono praticamente 30 gli imputati. E poi c'è un approfondimento sempre su questa vicenda. Diceva, spero nella turbina ogni notte sogno Gabriele, i suoi allarmi inascoltati. Francesco D'Angelo, il gemello del cameriere che chiese aiuto in vano, bisognava indagare ancora. Questa è l'affermazione. Proseguiamo ancora, andiamo invece a vedere le pagine locali del messaggero, partendo da quella pescarese. Filubus su Viale Marconi, superati i test di Tua su percorsi e autonomia. Prove tecniche dal Tribunale al Comune, il ritorno di Pasquale, risultati positivi. Il sindaco Masci aggiunge l'elettrico e il futuro, Frattarelli, consiglieri tenuti però all'oscuro. I fotogrammi delle prove del Filubus della Tua su Viale Marconi a Pescara. Poi nuova Pescara trattativa asserrata tra sospiri e dem sulla nuova legge di fusione. Blasioli e Paolucci dicono a scelte più condivise, il Presidente del Consiglio regionale promuove il percorso compiuto. Si decide in aula il prossimo 28 di febbraio. Sempre Pescara, i tentacoli della criminalità nella spartizione di Pescara. L'asse tra Calabria e Abruzzo fondato sui traffici di droga e riciclaggio di denaro. Lagguato ad Albi e Cavallito, ultimo atto di relazione tra le famiglie potenti e boss locali. Infatti partono da lontano le indagini della squadra mobile e della DIA sul controllo di attività commerciali. Anche Orsino punta sul territorio per nuovi affari ma sbaglia contatti ordinando di eliminare chi sgarra. Ovviamente tutta una serie di elementi, approfondimenti alla luce poi di quello che è stata la svolta dell'indagine per l'omicidio Albi. Proseguiamo alla pagina Aquilana. La pavimentazione corso stretto, i malumori dei commercianti. Serie di proposte del consigliere Iverini. Come provare ad accorciare i lotti in modo da non transennare il tutto? Il vice sindaco Daniele farà un sopralluogo per verificare la fattibilità dei suggerimenti. Sempre all'Aquila, Beata Antonia, destino ancora incerto. Consegnate nei giorni scorsi i lavori di consolidamento e restauro del monastero. Un cantiere a lungo atteso. Sul chiostro riscoperto il tavolo delle trattative tra comune, usdra e privati resta aperto e ora non si hanno notizie di scelte. Proseguiamo ancora con il messaggero. Pagine di Avezzano sul Mona. Bomba, chiese chiuse e messe spostate. Cattolici in fermento per la loro disponibile solo pietraquaria. Comune sempre aperta. Comunque sempre aperta. Ma come arrivare al santuario? Il PD tenta il rinvio delle primarie alle 12. Ma ieri la decisione è ancora in ballo. Stop ai match di rugby e calcio. Ovviamente come ci si prepara a questo momento con mezza città che sarà ovviamente paralizzata. La pagina di Chieti verso migliaia di euro e teatino truffato investendo in bitcoin. Qui l'apertura è dedicata alla cronaca. Gli è stata rubata l'identità digitale dopo il contatto con i finti consulenti. Il comandante della finanza Iadarola rivolgersi solo a operatori autorizzati. Aveva aperto un conto corrente per convertire, si legge nelle sommarie, i suoi risparmi in soldi virtuali. Il saldo era però a zero. La pagina di Lanciano Vastortone. Altra notizia di giornata. Migranti restano in Abruzzo. Uno è ferito. Domani l'arrivo in porto. A bordo due donne e neonati. Ieri sopra luogo pronta la macchina dell'accoglienza. Il prefetto di Chieti della Cioppa dice appena mi sono insegnato ho predisposto un piano per un'ipotesi di lavoro. Nella riunione presieduta da Scheil, direttore generale dell'Asla, è messa a punto l'organizzazione sanitaria. Proseguiamo ancora. Andiamo a vedere invece la pagina di Teramo del messaggero. La foto notizia compie 100 anni Giovanni Paolone, ex internato militare nei lager nazisti, padre del luogotenente in congedo Domenico Paolone. Questa è la foto notizia. Per quanto riguarda l'apertura invece dedicata alla politica, sindaco slitta la scelta del centro-destra, quaresimale però resta favorito. Impegni dei segretari di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Oggi la decisione, Tancredi corteggiato, spunta anche il nome di Cordoni. Qui c'è la foto dell'assessore regionale al lavoro, Pietro Quaresimale. Dino Trignani dilaniato dalla violente esposione, qui parliamo di giudiziari, i primi risultati di autopsia eseguiti dal dottor Sciarra. L'attacca ha rilevato frammenti metallici nel cranio, il perito balistico ha cristallizzato la dinamica. Di spalla invece arretramento della stazione, progetto pronto il 3 marzo, qui question time, parliamo ovviamente di Teramo. E poi in taglio basso, addio a Manuele, la sorella, tu non morirai, i funerali del giovane scomparso a 20 anni per una malattia. Proseguiamo ancora con la pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata. Aprile al mare con astrici tedeschi. Giulianova si prepara ad accogliere i primi turisti per Pasqua e primo maggio, già fioccano le prenotazioni. Taffà dice, i viaggiatori della bassa stagione sono i più ricchi, un successo il carnevale, arrivati i camperisti da tutta Italia. Qui c'è una panoramica su quello che è il momento attuale e come ci si prepara alla prossima stagione balneare. Giulianova, Madonna dello splendore, festa con le vibrazioni, il comitato festa ha presentato ieri il programma del festeggiamento, il programma il prossimo 21 e 22 di aprile. Sempre a Giulianova, di spalla, capitaneria, visita di Giovannone all'ufficio marittimo di Giulianova. La pagina della giudiziaria, o meglio, il titolo della giudiziaria, nelle gallerie dei laboratori le infiltrazioni erano ovunque. Ripreso il processo sulla sicurezza del sistema Gran Sasso, sentiti i consulenti dell'accusa. Poi incidente in scooter nelle Filippini, torna oggi Rosetano ferito, 60 anni ferito. E poi la cronaca investito da un'auto, muore dopo 70 giorni, Guglielmo Ginevro, ex dipendente del comune di Roseto, scomparsa 80 anni. Proseguiamo ancora velocemente con il messaggero, andando a vedere le pagine dello sport, con il calcio, Pescara, Colombo, il vecchio modulo, sabato, pomeriggio a Cerignola, il tecnico si giocerà il futuro con il collaudato 4-2-3-1. Uno schema offensivo, ma anche rischioso, che però rappresenta l'unica via percorribile. E poi la storia che arriva alla città di San D'Angelo, i gemelli dalla guerra all'angolana, i fratelli Cucerenco, talenti arrivati da Chievi in Abruzzo, hanno ritrovato il sorriso grazie al calcio. Gli e domenica scorsa erano anche nella distinta della prima squadra impegnata nel campione d'eccellenza. Cassani promuove i trabocchi in attesa del giro. L'ex corridore commentatore TV ha presentato ieri il suo libro alla Mondadori, oggi il sopralluogo. Proseguiamo ancora, sempre con il calcio, però dilettanti, Coppa Italia, Pineto in semifinale. 4 gol al Putelloana, grande vittoria di Biancazzurri, la prima volta che i pinentesi centrano a questo traguardo. L'8 marzo, scontro con la mezza terme che si è qualificato, la sede della gara sarà stabilito con un sorteggio dalla Lega. Poi Chieti, sempre con la serie di tifosi, pronti ad entrare in società con l'azione narrato popolare. Sempre con il calcio dilettantistico, Campobasso vince e passa, Sambuceto a testa alta. I ragazzi di Roncir negato un rigore, grande rammarico. Ovviamente i quarti finali della Coppa Italia di eccellenza fase nazionale approda la squadra molisana. Notaresco cerca l'allungo con un Avezzano temibile. Ieri l'attaccante Nicolas Mercado sottoposto a risonanza per un problema alla spalla. E poi con l'eccellenza Lanciano sempre più giù, retrocessione quasi sicura. Domenica gara con il Giulianova si disputerà a porte chiuse. Qui la foto del trainer frentano Giulio Daleno. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Di prima mattina si conclude qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e nell'augurarvi buon proseguimento di giornata. Vi lascio con le previsioni meteo per le prossime ore. Vi lascio con le previsioni meteo per le prossime ore.